Ciao, io sono Rossi Gutierrez, partecipo al Balloon Party Days come istruttrice per l'utilizzo della silhouette e questa meravigliosa macchina che ci serve per tagliare tantissimi materiali che servono per raggiungere le nostre composizioni e dare quel tocco in più che ci distingue. Sono Anna Costiù, sono ucraniana, vivo 18 anni in Spagna e hace 8 anni passei la mia carriera artistica del globo. Ho fatto una bella esperienza, sia a livello organizzativo come quello che vi possono offrire gli istruttori invitati. Llevo 3 anni andando al SEBA come istruttora e è la prima volta che sto in Balloon Party Days. E non perdete le prossime edizioni. Mi gusta questo ambiente del globeros. E non perdete le prossime.